Con irrefrenabile entusiasmo al grido del Duce sono giunti con il postale città di Napoli 300 volontari italiani residenti a Tunisi. Alla provenza delle gerarchie del partito, delle autorità civili e militari, con solenne austero rito fascista, ha avuto luogo la benedizione e la consegna delle fiamme di combattimento ai legionari. Grazie a tutti. Grazie a tutti.